ciao a tutti ragazzi e ben ritornati ancora nel mio canale allora per questo video vi è selezionati le canzoni le sei canzoni più cliccate su youtube turche ok la prima canzone partiamo subito con gül sen la seconda canzone si titola ben ghir penghir partiamo subito per la prima partiamo ma in turchia questo posto sembra più un posto cubano come si sono vestiti e tutto sembra che l'abbiamo girato a cuba in qualche posto latino americano ecco non in turchia però ora è il nostro segno di potere profondità 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 Ok. Ok. Buongiorno ragazzi, questa è la sesta canzone, quindi immagini prima. Ok. Ok. Come? Ok. 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 Prendevo a India. Poi non lo so, qualcuno mi dica nei commenti dove è girato questo video, perché non mi sembra di Turki, appartiamo. Ok ragazzi per questo sesto video, anzi parliamo del sesto video, era tutto, andiamo per il quinto allora, partiamo. Eccoci qua ragazzi per la quinta, abbiamo Tarkan, la canzone si intitola Yolla, Tarkan già lo conosco per la sua canzone Dudu, e lui è bravissimo ragazzi, penso uno dei cantanti più famosi turchi, quindi partiamo subito per Yanna, partiamo. Grazie per la visione Ok ragazzi, sono tutte canzoni, fino adesso canzoni che si ballano in giro per le discoteche, che si ascoltano. Ok, mi aspetto qualche cesa, qualcuno mi aspetto dai, però vai via. Ok. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La canzone si titola Feel con Sena Sener, ok? Vedo che è stata prodotta da Ultramusic, quindi partiamo subito. Ok. Ok. Ok, lei è la cantante, la ragazza o è una modella che va in giro a fare le foto? Fatemelo sapere nei commenti. Ok ragazzi, ok ragazzi. Allora, queste tre prime canzoni sono tutte canzoni da club, belle, d'estate, molto molto carine, specialmente questa poi l'ultima è molto molto da club e non sembra affatto turca, quindi però partiamo. sembra molto una canzone di Alan Walker, ok? lui fa tutte queste canzoni qua con queste donne che cantano e la musica sembra una sua canzone al 100%, è una canzone di Alan Walker, però partiamo. Anche la musica sembra un'altra canzone di Alan Walker, l'ultima è la canzone di Alan Walker. ok ragazzi la canzone è bella è tutto però non siamo qua per questo siamo qua per cercare le canzoni turche questa deve essere più una canzone da club prodotto da un dj qualsiasi però partiamo subito ragazzi per la terza canzone partiamo eccoci qua ragazzi per la terza in classifica allora per questa canzone vi ho portato a lei nati chi se o il san bari se col san bari ok allora siamo alla terza ok in classifica adesso vediamo un po speriamo di aumentare un po il livello faccia no 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 i sono Quindi Sì che Sì Su ci che Ok Ok. Era un ritmo che non avevo mai ascoltato con le canzoni Turchi. E'ne seninden pek emin değilsen Aradığın asksa en güzelim ben O zaman başka açarım kapıları Hazırım dünden O sen olsan bari Sen olsan bari Sen olsan bari Sen olsan bari Hazırım diyorum dünden Düşmüyorsun dilimden Sen olsan bari O sen olsan bari Alla canzone che abbiamo ascoltato fino adesso Sono tutte canzone pop d'estate Tutto Mi aspettavano sinceramente qualche rap Perché in Turchia veramente fanno Delle canzoni rap pazzesche Pazzesche veramente Invece no Invece le più cliccate a quanto pare Sono tutte le canzone pop d'estate E magari vanno oltre il confine turco Partiamo O zaman başka Açılır kapılar Buyurun denden Eat C'è 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 Eccoci qua ragazzi, questa era la terza canzone in classifica, mi aspettavo Cesar, mi aspettavo qualcun altro, Benfero, Cesar, porca miseria, è gel, e invece no, e invece mi tocca ascoltare queste canzoni d'estate, va bene così, partiamo per la seconda ragazzi in classifica. Eccoci qua ragazzi per la seconda classificata, allora per questo video vi ho portato Emrah Karaduman, Cevaz Pis Cinlama, in collaborazione con Elena Tiki, Elena Tiki era la canzante che era anche nella terza posizione, quindi partiamo subito per la seconda. Eccoci qua. Eccoci qua. ragazzi la traccia di questa canzone è e pazzesca Wow, bella questa è la più bella. Ok ragazzi, stupenda, adesso andiamo per la prima classificata, partiamo subito. Eccoci qua ragazzi per la prima classificata con ben più di 500 milioni di visualizzazioni abbiamo Burak, Yeten, Twesterday, partiamo subito. Scusate, in collaborazione con Danel Sandoval, partiamo. Conosso questa canzone, l'ho sentito tutta l'estate, molto bene. Ok. 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 Buona giornata. Ciao a tutti.